Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono goduti vacanze stellari nella splendida santo. Troppe, in costa azzurra, tra spiagge, locali, un po' di sana vita mondana e famiglia. Il comico e conduttore 67enne e la modella 28enne sono sempre innamoratissimi. La differenza d'età all'anagrafe della coppia è irrilevante, Romina è amatissima anche dai due figli. Giacomo, 30 anni, manager a Londra, e Gabriele, 26 anni, attore e rapper. Che il presentatore ha avuto dalla spagnola Isabel Begonchea, i due sono stati sposati quasi 20 anni. I ragazzi hanno trascorso molto tempo insieme alla coppia nella famosa cittadina nel sud-ext della Francia. Ezio e Romina sul social raccontano la loro estate insieme felici e contenti. I due ormai sono legati da circa tre anni. La Pierdomenico, bella e avvenente più che mai, ha occhi solo per il suo uomo che la rende felice e la fa sorridere ogni giorno. Sono felice con lui perché mi diverte e sono me stessa al 100%. Siamo legati dalla passione per lo sport. I viaggi, le nuove scoperte, ha detto in passato Romina Pierdomenico Agente. Seconda classificata a Miss Italia nel 2012, ex corteggiatrice di uomini e donne. Accanto a Greggio nell'ultima edizione TV di La Sai L'ultima, la ragazza non sgomita per arrivare. Accanto a Ezio ha trovato serenità e amore. Accanto a Greggio nell'ultima, la ragazza non sgomita per arrivare. Accanto a Greggio nell'ultima, la ragazza non sgomita per arrivare. Accanto a Greggio nell'ultima, la ragazza non sgomita per arrivare.